Benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Ameri20 e oggi giochiamo a Slug Terra. Allora, mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi pure al canale, attivate la campanellina visto che ci siete, tanto non cambia molto l'isola. Ok, non so, ditemi nei commenti se volete un altro gioco, perché non me l'avete mai detto, cioè me l'ha detto solo uno, sapete, sì, l'ho scritto così. Allora, siamo nel quinto episodio, sì, adesso è ridotto un po', il nostro arsenale è con questo, avevo fatto quella missione e adesso, o dopo di questo, lo vorrei tanto fare questo, e lo faccio pure, perché è troppo forte quel blast, poi anche quella con, cioè è una speciale, non mi ricordo qual'era, non mi ricordo qual'era, dicevo non mi ricordo questo no, infatti, l'ho fatto per il blaster e per quello un po', però se era negli speciali era meglio, vabbè, allo speciale 1000 iscritti o 100 iscritti uscirò la faccia e quando posso fare una, ok, livello 4, ah, e vorrei anche arrivare al livello massimo per tutti gli slug, tipo questo adesso, vorrei uccidere così, stai, infatti è successo, allora, così non dovrebbero vedere, cioè non mi ricordo che effetto fa, questo me lo ricordo che effetto faceva, cioè mi sembra l'istordiva, una roba del genere, ok, ah sì, non li faceva vedere niente, ma alla fine si vede lo stesso, cioè, quindi, cambia il mucchio di poco, ricariciamo il blaster, ok, allora, no, 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 non così, non così, no, che succede, però, eh, so quasi morto, e non ho cure, ah, ok, sono arrivati alla prima pompa, quindi siamo messi in abbastanza bene, dai, ah, mi hanno sparato, perché mi fa paura, bene, loro sono morti di fuoco, perché gli avevo sparato, burpi, che sarebbe lo slug infuocato, questo qua, addio a te, oh mamma, che era, perché, ma dai, a volte non carica, va bene, volevo che sparò le robe, le roben, volevo dire, scusa, eh, questa cosa non mi va bene, facciamo inseguirci, ok, no, non mi va bene per niente, vorrei trovare delle cure, non me ne non vedeva, ah, non è morto, anche se la vita è a zia, bene, meglio, però, uffamone, 50, vanno bene, ok, un colpo è questo muore, un colpo è muore anch'io, sono morto, boom, uno è morto, ehi, e quanti, forse era meglio tenermelo quello, ok, sei morto, ok, pure tu, eh, ma da dove arrivano tutti questi qua, questi robi, e uno, e due, ma sarà chiuso, cosa, robe, roben, boom, volevi, adesso sono finiti, bene, e uno, ciao, ma dopo contronascio, dovrei sconfiggere tre di bombe, quindi contronascio avrò pochissima vita, se non sarò morto, ok, perché, meno male, è il mezzo di due tornadi, praticamente, cioè, oh, meno male, no, che ho fatto, ho sperato lì, bene, roben, ok, forse 100 iscritti, non è detto, che, no, non è tanto facile, però, questa azione, meno male, l'ho finita, praticamente, però, non è stata, ma che ho fatto, capace, adesso muoio, così, dicendo, a me, meno male, che l'ho finita, e per poi, a me una volta, quando ho installato il gioco, c'era un bug, che ogni volta che cercavo di rivivere, non mi faceva rivivere, perché, boh, perché era un bug, e, e quindi, una volta, sprecai, tante, soldi, c'è, non soldi veri, ovvio, bene, adesso dov'è l'ultimo, è arrivato un ascio, aia, e io non ho tanta vita, come, è facile, cioè, ma, 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 ma che brutta cosa, una volta, ma, 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 manaccio faceva più cagliare degli altri, tra un po', cioè, vabbè, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, e noi ci ribelliamo in un prossimo video, ciao, 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 ciao,